carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi sul libro di tenera amata che oggi eccezionalmente per chi segue le dirette va in onda il mercoledì a causa di impegni io purtroppo sono anche come tutti quanti sapete parroco e poi c'è una montagna di cose dove sono impegnato e coinvolto quindi può succedere che ci siano questi stravolgimenti anche per questa settimana qui in parrocchia un po' particolare con i festeggiamenti della Madonna della Vittoria queste sono cose che non ci interessano riprendiamo la lettura del nostro del nostro testo che è arrivato al paragrafo 6 e chiaramente anche questa sera ne sentiremo delle belle cominceremo ad avere qualche piccolo assaggio di soprannaturale del tutto peculiare per chi non ha mai letto il libro per chi non lo conosce è una news ecco una divertente news quindi andiamo subito passando alla lettura e poi come sempre con qualche piccola notazione ci siamo lasciati è buona tu è siamo lasciati con tenera che spiegava tutte quante le modalità del tutto peculiari di consumazione dell'energia da parte dei corpi che sono collocati in quei paratempi piccolissimi come i milionesimi di piccolo secondo dove loro si trovavano adesso si fa uno step successivo perché ogni capitolo c'è qualche evidentemente novità allora Teneramata ed io continuavamo seduti nella stanza della mia umile casa ogni tanto guardavo l'immobile voluta di fumo della sigaretta e l'immagine fissa del televisore testimoni della favolosa esperienza che stavamo vivendo io non ripeto abbiamo già visto la volta scorsa perché il fumo era fermo il televisore era bloccato sul fotogramma e così ci sono anche delle cuoche nel cielo dice domanda Teneramata la domanda è giustificata dal fatto che aveva concluso dicendo che in cielo mangiamo dei cibi deliziosi anche se di questo non c'è bisogno qui si lavora col sudore della fronte di là no e ci stanno dei cibi deliziosi che si gustano solo per il gusto di gustarli pur non essendoci bisogno e allora a lui viene spontaneo ci stanno delle cuoche in cielo risposta si nella patria abbiamo grande sante esperte in preparare piatti deliziosi senza che debbano fare il minimo sforzo dice ma se nella gloria eterna nessuno lavora ma da dove si procurano la carne i legumi la frutta attenzione ogni cibo attenzione alla risposta per quanto possa essere complesso in ultima analisi è fatto di atomi e questi di energia ebbene gli atomi e l'energia ci obbediscono ciecamente al punto che col solo nostro volere adesso facciamo un bel po' di spiegazioni qui riusciamo facilmente a combinarli trasmutarli fissionarli e farli diventare cibi vistosi e succulenti la materia e energia oltretutto è ansiosa di servirci come alimento di incorporarsi al nostro corpo glorificato e di partecipare alla nostra gloria accidentale è che tutti gli esseri sono vincolati dai legami dell'amore universale ci completiamo gli uni con gli altri ci desideriamo e ci possediamo all'ineffabile modo celeste non è panteismo si tratta di interrelazioni gli atomi mossi dall'amore universale stanno sospirando come nelle doglie del parto citazione di romani citazione di romani 8.2 22 la creazione stessa geme e soffre fino ad oggi nei travagli del parto perché brama anche lei la redenzione del nostro corpo così scrive San Paolo in lettere romani nell'attesa di ricevere da noi felicità al modo loro nel cielo vedrai come ogni essere è capace di avere una conoscenza e un amore per quanto possa essere in un modo rudimentale fantastico voi i beati riuscite da soli e senza molto sforzo molto di più che il nostro migliore laboratorio di energia nucleare allora io spero che qui ci stanno delle nozioni abbastanza semplici è chiaro che ripeto ci sono dei passaggi che un minimo di cultura un po' generale di fisica e di chimica bisogna averla ma molto generale penso che tutti quanti sappiamo che l'atomo è la particella elementare della materia e sappiamo anche che ogni sostanza ha una sua conformazione chimica cioè per esempio H2O è la composizione dell'acqua vuol dire che nell'acqua ci sono nella particella elementare dell'acqua ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno per cui quel particolare sapore conformazione colore che è in colore poi dell'acqua deriva dalla sua composizione chimica sono atomi d'accordo? io adesso non sono in grado di dire che atomi ci stanno nelle patatine fritte ma ci stanno degli atomi e dove ci saranno delle sostanze che possono essere chimicamente identificate cioè i sapori che noi sentiamo sono nient'altro che derivanti dal contatto di questi atomi di queste sostanze con le nostre papille gustative tutto qui allora attenzione non serve cioè avere la materia prima per preparare da mangiare basta semplicemente conoscere gli atomi e come comporli per creare sapori entusiasmanti per il gusto dell'uomo e questo è questo che stanno fare le grandi cuoche in cielo dopo gliene darà una dimostrazione teneranate quindi atomi ed energia attenzione vedete la partecipazione alla gloria di Dio noi noi gli atomi e l'energia ci obbediscono ciecamente gli atomi e l'energia qui non ci obbediscono manco per niente gli atomi e l'energia obbediscono ciecamente a Dio ma questi sono glorificati come spiega Sant'Omaso d'Aquino benissimo nella gloria Dio ci parteciperà gratuitamente tutto contento perché ce lo siamo meritato per arrivare là sopra i suoi poteri le sue prorogative in parte evidentemente ma i beati sono veramente dei piccoli dei saremo dei piccoli dei se andiamo in paradiso cioè capaci di fare cose che qui ce le segniamo la notte questo è il primo punto quindi atomi e energie capacità perfettissima di combinarli trasmutarli fissionarli la fissione nucleare è un particolare procedimento abbiamo visto la volta scorsa lì bisogna andarsene un pochettino a studiare non sono in grado di spiegarlo in due in due minuti d'accordo comunque la materia energia attenzione all'altro aspetto è ansiosa di diventare il nostro alimento di incorporarsi al nostro corpo glorificato qui in paradiso ci sono una serie lo vedremo di di incorporazioni di che sono più che fusioni non soltanto tra le sostanze chi le assimila ma anche vedremo tra le creature stesse tra le creature e l'umanità santissima di nostro signore gesù cristo e della beatissima vergine maria ci desideriamo e ci possediamo all'ineffabile modo celeste possedersi desiderarsi questa è grammatica dell'amore e questo desiderio reciproco è vincolato dai legami dell'amore universale amici cari Dio e amore cioè le tre persone divine in teologia si dice una cosa proprio che San Tommaso se l'ha inventata che è verissima solo che detta così sembra proprio astratta ma attenzione sapete cosa sono le persone divine il padre il figlio e lo spirito santo l'unico modo con cui si possono definire si definiscono relazioni sussistenti cioè non ci devono stupire queste cose perché il nostro Dio è trino sapete che significa trino trino significa che l'uno non può stare senza l'altro ecco perché relazione sussistente e la vita di Dio è un vortice ininterrotto di amore reciproco tra le tre persone il padre che si dona totalmente al figlio il figlio che si dona totalmente al padre da quest'amore espira lo spirito santo che si riceve dall'amore del padre e del figlio e si ridona al padre e al figlio attenzione che Dio non può perché relazioni sussistenti perché non se ne potrebbe togliere una dalla Santissima Trinità rimangono gli altri due no no perché se tu togli il figlio il padre cessa di essere padre se tu togli il padre il figlio cessa di essere figlio e se togli lo spirito santo cessa l'amore tra il padre e il figlio e se cessa il figlio cessa pure lo spirito santo ok perché dico questo perché nel creare cioè anche Dio è soggetto alla regola quando uno fa qualcosa ci mette la firma cioè in quel qualcosa che ci fa c'è se stesso la felicità amici cari questo lo sanno tutti se uno chiede che cos'è la felicità è l'amore la felicità no? qualcuno ha qualche dubbio che si è felici se si ama e se si è amati se si è ricambiati ci vogliono tutte e due perché se ti amano soltanto e tu non ami nessuno cioè non ci provi gusto e se tu ami qualcuno e quello non ti ricambia tu resti frustrato in paradiso non funziona così la pienezza della beatitudine capiamo questi è l'amore anche mangiare una sostanza buonissima è un atto d'amore perché ci stanno gli atomi che bramano di unirsi a noi di incorporarsi in noi e noi godiamo nel noi godremo magari godiamo nel fare questo tipo di operazione che poi tenere l'amata spiegherà il mangiare qualche cosa di buono in questa vita che è soggetto alla limitazione alla temperanza le cose che sappiamo è una pallidissima lontanissima prefigurazione di questo sono interrelazioni gli atomi sono mossi vedete come come chiama Dio l'amore universale sono mossi e sospirano di ricevere da noi felicità saranno felici di entrare dentro di noi nel cielo vedrai come ogni essere attenzione ogni essere ogni essere ha è capace di avere una conoscenza un amore per quanto rudimentale vedremo più avanti adesso non voglio quando non mi ricordo se tenere amato la mamma di tenere amata non mi ricordo sto particolare fa godere una mosca una mosca vedremo mi ero scordato dei miei doveri di ospite riprendo la lettura ma nel parlare di alimenti ricordai che dovevo offrire almeno un rinfresco alla mia amata visitatrice chi fa un po' sorridere questa è una che abituata a ostri che cae champagne molto meglio che queste vuole dargli un caffè ma ti piacerebbe prendere una tazza di caffè risposta no grazie meglio se vuoi ti preparo io una ghiottonneria e adesso attenzione prese il mio pacco di sigarette gli tolse l'involucro di cellofan lo strinse fra le dita fino a formare una piccola pallottolina e me la offri con un sorriso raggiante il cellofan delle sigarette assaggiala sono certo che ti piacerà questo si fida pia sta pallottolina e la salametta in bocca infatti che bocconcino delizioso mai prima avevo gustato nulla di così saporito come un fragile pasticcino mi si sciolse in bocca il suo sapore gradevolissimo era unico non riuscii a riconoscere il predominio di nessuno dei sapori fondamentali dolce salato amaro acido ho assaggiato cioccolati svizzeri e nordamericani come anche marzapani e paste di mandorle ma questa celeste gliottoneria li superava di molto è delizioso come lo hai fatto gioco da ragazzi per i cittadini del cielo ho trasformato le molecole di cellofan in altre sostanze chimiche sconosciute sulla terra attenzione ci sono sostanze chimiche che noi sulla terra non conosciamo le quali eccitano armonicamente tutte le papille gustative e non parzialmente come i classici dolci terrestri vedete uno scarto differenziale una ghiottoneria celeste le eccita tutte tutte insieme e con sapori che sulla terra non esistono tu ti mangi una cosa squisitissima qui c'è un'eccitazione parziale delle papille gustative non piene peccato che questo stesso bocconcino tu non lo possa degustare nel tempo normale della terra capito? cioè lui ha potuto gustare quel bocconcino soltanto perché si trova nel paradempo lo spiega subito perché e perché no sentite la risposta perché moriresti di gusto godesti di un piacere imparagonabile alla vita mortale mi fermo un attimo se ci potessimo mangiare una pallottolina di cellofan rielaborata da un'anima beata se me la mettessi in bocca adesso morirei per il troppo gusto capiamo? in realtà hai assaporato questa piccola ghiottoneria attenzione non è finito meno che a metà perché hai percepito il suo sapore per mezzo della infraenergia altro concetto complicato di cui ti parlerò già che stiamo in un paratempo molto lento nel quale non è possibile la trasmissione dell'impressione gustativa mediante impulsi nervosi come avviene ordinariamente nella nostra vita terrena quindi attenzione è una super ghiottoneria che può godere soltanto perché si trova nel paratempo altrimenti morirebbe di gusto ma per quanto si sia straleccato i baffi ne hai gustato meno della metà del sapore piacevole e lui risponde a me comunque mi è sembrata deliziosa tu devi essere una magnifica cuoca celeste sentiamo la risposta ma no questo buco un giro lo potrebbe fare qualsiasi beato direi che nel cielo corrisponderebbe al pinolle spagnolo si dovrebbe pronunciare pinolle della terra leggo la nota pinolle nel Messico è una specie di farina di maestri sapore neutro popolare che come uso equivalrebbe in Italia leggeramente di mento di liquirizia quindi robetta quindi questa non è una grande beata quindi sa fare soltanto le cose più semplici un giorno conoscerai molte sante cuoche che per la loro grande gloria preparano vivande davvero succulente negli uomini pellegrini di questo mondo il senso del gusto si trova molto atrofizzato a causa di tanto male morale nebbeati invece acutissimo e perfetto non puoi immaginare come cerchiamo di attirarci le simpatie di queste sante esperte in gastronomie io qui non vorrei essere offensivo ma già mi sento dire perché già mi sono arrivati commenti e mail degli sciocchi che comprendendo bene queste cose cominciano a fare le spallucce oppure a fare gli spregiatori ti pare che in paradiso questo sta a descrivere il paradiso come queste cose qui non si riesce a capire cioè un concetto fondamentale il gusto che noi abbiamo anche in questo mondo perché io ce l'ho le papille gustative è una cosa che viene da Dio le papille gustative me le ha create il nostro Signore non me le sono fatte da sole il maledetto peccato che cosa ha fatto primo il gusto l'ho atrofizzato e secondo lo ha squilibrato nel senso che la mia volontà ordinariamente non è capace di moderare gli impulsi del gusto ecco perché si sta il vizio capitale della gola credo non so se ne abbiamo parlato già in questa sede da cui bisogna stare molto attenti per cui da un lato io non mi posso abbandonare a godermi tutti quanti i gusti possibili e immaginabili dall'altro se anche lo facessi supponiamo che non diventassi obeso come ci divento e non ci devo diventare comunque sarebbero gusti che non riesco a gustare in pienezza perché il gusto qui si trova atrofizzato e qui c'è anche Sant'Omaso d'Aquino sotto perché Sant'Omaso d'Aquino quando parla dell'umanità Santissima di Gesù e di Maria la definisce perfettissima in relazione anche alla perfezione assoluta dei sensi non ne parla quando cerca di farci capire qualcosa della passione di nostro Signore la passione di nostro Signore fu di una intensità per lui inimmaginabile cioè se a noi ci massacrassero perché è stato un massacro come hanno fatto a Gesù nei confronti della flagellazione è chiaro che soffriremo in maniera inaudita inaudita supponiamo che a me mi prendessero e mi facessero esattamente la stessa cosa che hanno fatto a Gesù proprio la stessa flagellazione lo stesso numero di colpi negli stessi punti il dolore sarebbe inimmaginabile sarebbe atroce ma sarebbe un nulla in confronto a quello che ha subito lui perché il mio tatto non è perfettissimo come nello stato di natura integra come non è perfettissimo il mio gusto nella mia vista nel mio udito e nel mio dorato perché tutto qui è peggiorato tutto qui è degradato tutto qui è è diverso da com'era qui lo spiega anche in relazione al gusto ed ecco come adesso una considerazione di Riccardo fa cadere le obiezioni degli sciocchi che prima di leggere bene e di capire bene perché amici cioè io vi raccomando su tutte le cose guardiamoci sempre dai giudizi di pancia a reazione immediata stati calmo 5 minuti anche quando ci parla qualcuno ci parla qualche persona stati calmo 5 minuti prima di di ribattere di alterarti aspetta specialmente quando c'è davanti una persona che non ti pare essere un cretino o uno sprovveduto aspetta considerazione di Riccardo io credevo che nel cielo dinanzi alla visione beatifica i glorificati si lo dimenticano di tutto il resto i piaceri dei sensi il godimento estetico delle belle arti altri amori amicizie chi di noi non penserebbe una cosa di questo genere ma la visione beatifica tu vedi la santissima trinità ti immergi nei vortici dell'amore di Dio ma figurati che pensi a queste cose l'obiezione per carità ci sta è spontanea ma ascolta la spiegazione però è vero dice sarebbe sufficienti per farci assolutamente felici assolutamente significa che più felice del così non se può ma noi non conosciamo bene il nostro signore però così perché il nostro signore strafa ecco i legami con la con la divina volontà quante volte lui sta negli iscritti quando parla di questo qui vuoi vedere il nostro signore non ti dà il nostro signore c'ha tanti di quei beni ti rimpinserebbe e te ne darebbe ancora di più il nostro signore è un gran signore non è un pitocco come noi un pulciaro come noi lui a cascate ti obbriaca di beni non bastano mai certo che basterebbe ma non basterebbe alla sua infinita magnificenza al suo volerti far godere sempre di più e sempre in modi alternativi e sempre più belli questo ma voi capite cosa significa farsi dentro il cervelletto nostro una tale immagine dell'altissimo che non toglie il fatto che per andare in paradiso te lo devi guadagnare te lo devi sudare non devi peccare devi fare penitenza devi pregare e in vista di questo lo capisci pure perché no in vista di cose tanto grandi ma che saranno mai quattro sciocchezze quattro sciocchezze che facciamo qui su questo pianeta te sciocchezze per quanto mi riguarda qualunque cosa di possibile inventare sono sempre sciocchezze innanzitutto questo ma lui riprendo la citazione per l'amore indicibile che ci porta ha disposto che godiamo inoltre la nostra gloria accidentale oltre a quella essenziale il concetto di gloria accidentale è noto aprire la summa teologia di San Tommaso d'Aquino ancora che dice lui stesso che beatice innanzitutto la gloria essenziale cioè la visione beatifica ma la gloria accidentale che godono in proporzione del grado di gloria che hanno raggiunto cioè diletti non collegati direttamente alla visione beatifica ma ad altri beni esistenti in paradiso e che cosa sarebbe questo qui un infinito numero di amori umani angelici estetici scientifici ed altri ancora sconosciuti in questa terra ce ne stanno alcuni che sono sconosciuti infinito numero infinito numero di amori umani qui le persone che 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 non dilatano un pochino il cervello qui bisogna dilatarlo il cervello però io ho mio marito e mia moglie e come facciamo che poi in cielo oltre a mio marito e mia moglie che c'è pure qualcun altro ma non è che questi iscritti mi destabilizzano un po' ahia dico lo vuoi capire che tra che noi qui stiamo in uno stato di 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 proprio interdizione sono due mondi completamente differenti non puoi tu affacciarti andare a rappresentarti di stare in cielo con la capoccia che c'è sulla terra e con le leggi che c'è sulla terra più avanti spiegherà che Dio su questa terra vuole il matrimonio monogamico e guai a te a chi lo viola o a chi ne esce ma questo è dovuto alla presenza del peccato ed ecco perché le catecheti sul peccato originale sono importantissime uno dei motivi per cui non si possono vivere qui gli amori umani multipli è che non potresti mai viverli senza che si muova la concupiscenza è impossibile in questa vita a meno che Dio non faccia un miracolo io non mi posso accostare pur essendo prete anche se ho i sentimenti più puri e più santi noi dobbiamo stare sempre attenti cioè un sacerdote degno di questo nome non non sente amori ve lo confesso libidinosi verso nessuno può sentire l'amore di padre può sentire l'amore di fratello ma non può viverlo l'amore di padre l'amore di fratello verso un estraneo cioè se io ho mia sorella dentro casa mia sorella di sangue quella è mia sorella ma una creatura che mia sorella non è purtroppo anche se io non voglio se comincio ad avere qualche contatto che succede eh che succede amici miei arrivateci da soli e quindi qui non è possibile e quindi il signore questo lo anticipo ha blindato questa cosa attraverso il matrimonio monogamico per evitare i disordini purini della vita della promiscuità sessuale tra l'altro ma non solo ma tu non puoi pensare che di là è così perché per esempio su questo l'abbiamo già visto nel ciclo di Cateriari sul peccato originale già un signore ha detto che di là non è così perché non prendono mogli non prendono mariti quindi la caratteristica tipica dell'unione responsale che è la sessualità non c'è in paradiso il sesso non c'è guarda un po' quelli che considerano il paradiso sulla terra il sesso quanto si sbagliano di grosso c'è manca l'inferno ma ci sta all'inferno la retribuzione per aver degradato la vita a panteismo sessuale il sesso c'è solo sulla terra questo dato che sono qui non c'è in paradiso non c'è in purgatorio non c'è l'inferno e non c'è nel limbo non c'è più tutto questo pansessualismo tutte quante queste cose tutte ste tutte ste pazzie che stanno girando io sto leggendo questi giorni sto vedendo tweet o cose di questo genere quanto un altro giorno non ho letta una c'è c'era un tweet di una tizia che dice ah io odiavo la divina commedia perché nell'inferno Dante era omofobo io ho riletto sto coso e dico ma dico 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 eh Dante era omofobo si leggono queste cose in giro adesso vabbè parliamo di cose più belle quindi amori umani angelici con gli angeli sì con gli angeli estetici estetici sì di contemplazione di cose stupende ma ci sono delle cose belle io su Instagram ho celato poco ma ogni tanto restano dei reel su Instagram fatte probabilmente da professionisti a gente bravissima ma che si guidano dei posti montagne mariatolli dico ma ste cose sono veramente sul pianeta Terra se uno va a un posto del genere come sta la nostra vista la nostra vista gode in un posto del genere o no o soffre e quel godimento non è un ti amo chi la fate quelle cose chi la fate per chi se uno si vede un bel film non gode poi glielo chiederà Riccardo se ci sta al cinema l'altro mondo ci sta di molto meglio ma attenzione il diletto che si prova che cos'è il diletto che tu provi vedendo un film è un diletto sensibile ci sono delle cose che vedi soprattutto e dei suoni che senti non c'è altro a un film certamente poi sta anche la trama che coinvolge le nostre facoltà cerebrali oppure anche emotive che ti coinvolge ma questo è un film è un diletto estetico perché in paradiso niente niente come no quanti ne vuoi e quelli scientifici quanti siamo contenti questo chissà magari un po' più di quando capiamo come funziona qualcosa voi diciamo mamma mia e quanto se ne staranno di queste cose e d'altri ancora sconosciuti in questa terra altri amori sconosciuti in questa terra che altro ci starà tocca andarci per togliersi questa domanda quindi vediamo quello che dobbiamo fare senza contare riprendo la citazione gli incalcolabili piacere della vista dell'udito dell'olfatto del gusto e soprattutto del tatto guarda un po' il senso maggiormente connesso con il sesso il sesso non c'è ma il senso che gode di più in paradiso è il tatto il quale come poi vedremo non si limita alle sole papille tattili della pelle come qui avviene ma comprende tutte le cellule dell'organismo le quali godono e ci fanno godere indicibilmente nelle nostre compenetrazioni amorose compenetrazioni non c'è soltanto un contatto esterno cioè se a me qualcuno mi stringe la mano io ne provo un diletto pensate che bella anticamera dell'inferno che ci hanno fatto fare negli ultimi due anni detto fra me e voi non puoi neanche stringerti una mano va bene se a me mi fanno una carezza io sento un godimento se ricevo un bacio sulla guancia da chi può darlo a qualcun altro sulle labbra oppure un bacio bacio c'è sempre un contatto ma è sempre un contatto esteriore sono le papille tattili della pelle o di altri organi ma è sempre un contatto esteriore non c'è una compenetrazione e in paradiso sì e questa dà un godimento inincredibilmente più grande del semplice contatto tattile ci fanno godere indicibilmente nelle nostre compenetrazioni amorose alla maniera esultante del cielo con tutta la creazione va bene bene questo riprende tutto tutto gasato tutto contento favoloso godere senza lavorare direttarsi senza fatiche assaporare cibi prelibati senza doverli pagare odorare profumi delicati contemplare bellezze come quella della mia amata visitatrice in paradiso sono tutti gli altri bellissimi in paradiso i mostri non esistono ma non solo non esistono i mostri non esiste niente che non sia bellissimo anche io anche tu se vai in paradiso sarai bellissimo bellezze come quella della mia amata visitatrice poi poi lo comprenderemo perché non soltanto saremo bellissimi ma potremmo anche plasmare il nostro corpo in tante forme senza andare a spendere i soldi per il lifting come i ridicoli fanno qui su questa terra pure 80 anni che sembrano cadere le carta pesta d'accordo con le chirurgie plastiche con le carte queste cretinate qua con i trucchi con gli smalti con gli impicci e tutta questa roba contemplare bellezze come quelle della mia amata visitatrice e possederle amorosamente al piacevolissimo modo celeste mediante l'ineffabile compenetrazione con loro più avanti intravidi la meraviglia di questa compenetrazione fisico spirituale tra i beati d'accordo coi disegni divini glielo farò vedere sì glielo farò vedere lo vedremo non potei fare a meno di ringraziare Dio di avermi chiamato all'esistenza vogliamo fare cinque minuti di silenzio cioè siamo stati chiamati all'esistenza noi siamo destinati a tutta questa roba qui ma di che vogliamo parlare per avermi dato la natura umana e non una natura puramente materiale o vegetale o animale perché la nostra natura umana godrà infinitamente di più di quelle materiali di quelle vegetali o anche di quelli animali che godranno anche loro però c'è qualcuno che va dicendo stupidaggini che c'è che gli animali hanno l'anima che vanno in paradiso gli animali non vanno in nessun paradiso non hanno nessun anima capace di vedere Dio ma gli animali poi ci arriveremo hanno un tempo di essere un cane campa 15 anni circa un gatto campa 15 anni circa un cavallo un po' di più una trentina d'anni ora questi 15 anni per loro nell'eternità creata come vedremo nella quinta dimensione è lo spazio temporale in cui per tutta l'eternità godranno da chi da quelle creature che sono state preposte per una volontà di Dio ad avere un legame con loro io dopo che ho letto queste cose ho capito io ho avuto diversi cani nella mia vita l'ultimo si era legato tantissimo a me il primo era legatissimo a mia sorella per esempio il secondo un po' a tutte e due ora ci stanno i felini ma io le vedo alcune cose no? e quando mi riguardo dico che fanno tutti contenti quando vengono in braccio ti fanno le coccole le cose gli impicci si fanno capire a modo loro io mi rigordo e dico a parte che io sono pure un prete quindi ti è nata particolarmente bene dico ci rivedremo qua ci rivedremo perché quando ritorno vedrai che che cinematografo che succede che 48 che succede quindi ecco perché nella messa diciamo è veramente cosa buona e giusta al nostro dovere e fonte di salvezza a rendere grazie sempre in ogni luogo cioè conoscere queste cose e facciamola finita e stassi sempre a lamentare c'hai le croci ma strari in grazia nostro signore perché più ce n'hai e meglio le porti e più in alto andrà in gloria qual è il problema stiamo vivendo un tempo difficile devastante il tempo che è sotto la gira del diavolo stiamo il primo grande scontro scatologico sì perfetto adesso ci sembra tanto tanto maggiore perché chi vive alla grande questo tempo chi rimane fedele al signore chi conserva la fede l'amore a Dio affronta gli eventi dico ma e quanto alto andrà in paradiso grandi prove richiedono grandi premi o no chiamano grandi premi siete superi quindi siamo stati yellati beh dipende dal punto di vista perché potremmo anche pensare che siamo stati fortunati perché se superiamo la grande le prove insomma eh allora ringraziare per averti chiamata all'esistenza come essere umano insomma siamo inferiori soltanto agli angeli e però il figlio di Dio si è fatto uomo non si è fatto angelo per avermi redento amici cari qui chiudiamo tutto quanto qui eh se quel grandissimo Dio è il Signore nostro unico Dio unico Signore che deve essere predicato a tutti nessuno escluso andate in tutto il mondo e annunciate ogni creatura che è l'unico Salvatore tutti in ginocchio davanti a Lui tutti in ginocchio davanti a Lui nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo in terra e sotto terra se Lui non fosse morto per me non avesse queste cose ce le sognavamo perse per colpa nostra perché il maledetto peccato ha fatto diventare una una cosa molto peggiore di quella che era questo mondo e le porte del cielo erano serrate macco San Giuseppe era andato in paradiso prima del venerdì santo questo ce lo mettiamocelo bene in testa San Giuseppe non stava in paradiso prima del venerdì santo anzi del sabato santo macco San Giuseppe avermi redento e quegli sciagurati disgraziati che non so buoni mancano a messa la domenica a rendere il dovuto ringraziamento a chi è morto per loro che non so buoni mancano ginocchiasse durante la consagrazione quando quello che lui ha fatto sul calvario si rende presente davanti ai nostri occhi ma che sta a fare in piedi come uno stoccafisso c'era padre Pio che forse c'aveva l'antenna dietro la testa che allora si celebrava verso Sdeum che se si accorgeva qualcuno stava in piedi durante la consagrazione da vede lui che faceva in ginocchio che te sta in piedi o seduto come come vabbè siamo aperti ringraziarci per averci redento oh e poi per avermi creato nel ventesimo secolo e non all'epoca delle caverne dice lui e che merito ce n'abbiamo noi sì adesso questi sono tempi pochino più calienti ma è in dubbio che si pur con tante cose negative amici cari cioè voi vi rendete conto che significa adesso lasciate perdere che parla Don Leonardo ma se noi fossimo nati cento anni fa voi non avreste mai conosciuto Don Leonardo o chi per lui lasciate perdere che so io vi rendete conto che cosa significa che adesso anche in diretta cioè io sto a casa mia in canonica sto parlando sto facendo una catechesi e tu te l'ascolti tranquillamente seduto in casa tua dove ti trovi davanti al telefonino c'è chi collega il computer c'è chi addirittura ha collegato il computer alla televisione così vede la faccia grande magari con l'impianto Dolby ma che vi sembrano cose da niente queste qui guardate che ai tempi del santo curato d'Ars io non mi sto paragonando al santo curato d'Ars attenzione non sono neanche mezza unghiera del santo curato d'Ars però per far capire un concetto avevi sentito dire che c'era uno un parro che faceva bene il catechismo ah ti dovevi mettere la strada sotto i piedi o se c'avevi un po' più di soldi salire su un bel cavalluccio e andartene ad Ars per cui io facevo il catechismo alle 5 pomeriggio in parrocchia e non c'erano registratori cioè questo che io adesso faccio cioè le puntate di tenere la mano io sono contento ma non perché le sto facendo io perché queste cose sicuramente fanno bene alle anime io sto semplicemente leggendo e commentando io non faccio mai e io non faccio mai niente di mio io faccio sempre qualcosa che ricevo da altri e mi limito semplicemente a metterla a disposizione perché noi siamo servitori io non sono nessuno ok te lo vedi su youtube te lo senti su speaker te lo senti su spotify te lo senti su google podcast io ho l'iphone mi piace di più apple podcast e te lo senti su apple podcast e quando arriva la puntata 9 ti arriva la notifica uè c'è un aggiornamento ma queste sono cose cioè è chiaro dici ma questo per un sacco di gente è il male è l'inferno e che ce ne porta a noi per me no per me non è per niente il male e l'inferno per me questo è un modo per diffondere il paradiso però perché siamo nati nel 2022 io sono nella fase di transizione io quando ero legazzino quando ero legazzino ma il cellulare io mi ricordo quando dentro casa entro la televisione a colori che sembrava un evento ma che mi potevo mai immaginare che sarebbe arrivato cioè è la fantascienza a me se mi erano detto quando c'avevo 12 anni a 12 anni mi ricordo c'era a casa di un amico c'aveva il Commodore 64 quei videogiochetti andavamo tutti là dentro e che è questa roba io ho vissuto queste cose quindi l'ho vissuta la transizione cioè ho avuto anche questi entusiasmi i ragazzini che nascono oggi che sono nati col cellulare in mano non si rendono conto anche del passaggio epocale è chiaro che questo c'è il rovescio della medaglia questo può tutto questo i grandi della terra lo vorrebbero utilizzare per farci per far diventare la terra un inferno ma facciano quello che vogliono io non noi ne faremo un altro uso è questa età non vogliamo ringraziarne il Signore poi ringraziamo per avermi perdonato le mie iniquità per la sua generosa providenza durante la mia vita per aver avuto con me tanta pazienza per la sua larghezza nel presente che ci ricolma di beni già adesso e per quella futura che incominciava a scorgere vedete gli effetti che producono queste cose oh stiamo ancora qua non abbiamo manco cominciato ancora lui ancora non sa niente ma per queste poche cose che ha visto quindi sti picosecondi sti energie e la pallottolina di cielo la fa non capisce più niente e matura nel cuore questa immensa gratitudine verso l'altissimo ma tornando al delizioso bocconcino abbiamo quasi finito abbiamo anche il tempo quasi scaduto dissi alla mia compagna suppongo che ormai non ti piacerà più il nostro pozzole né il mole di tacchino né la frutta candita in nota Don Pablo ha scritto piatti tipici della cucina messicana dice oh sbagliato certo che ci piacciono ancora e molto volentieri li mangiamo ma molto ben fatti senza nessun difetto culinario e sto qui anche i migliori cuochi ogni tanto se possono se possono sbagliare no? mia mamma era una bravissima cuoca ogni tanto però qualcosa gli veniva era tutta mortificata diceva oh io cucino sempre allo stesso modo cioè metto sempre gli stessi ingredienti però delle volte non viene buono incidenti della vita terrena in paradiso queste cose non succedono la stessa cosa dico delle bibite vini liquori del cielo che superano i migliori di questo mondo capito? in cielo stanno le bibite i vini e i liquori del cielo però anche qui qualcuno le scandalizza i liquori il vino scusate ma io la messa cosa la celebro? col vino no? ma i monaci dove vengono fatti i più buoni liquori e amari di questo mondo? nelle distillerie dei monasteri i frati di Norcia fanno una birra buonissima che era nurzia non voglio fare pubblicità no? con l'alcol qui dobbiamo stare attenti certamente perché l'alcol è pericoloso ma San Paolo stesso un bicchiere di vino raccomanda di prenderlo a Timotio e San Benedetto nella regola due bicchieri di vino a pasto per i monaci due bicchieri di vino insomma se me li bevessi io non briagherei io non li reggo allora e tutto questo senza bisogno di mercati né discutere sui prezzi né asfissi anticucini né piatti da lavare perché c'è pure questo problema non ci fanno una bella magnata appunto prima bisogna cucinarle quelle cose e appunto secondo poi bisogna pure lavare i piatti e le ventole che ti fanno passare la voglia non ti meravigliare di quanto ti dico ricordano che il nostro Signore Gesù Cristo nostra causa esemplare questo è alto otomismo causa esemplare mangiò con gli apostoli poco dopo la sua resurrezione Gesù ha mangiato e non ha mangiato soltanto per dare la dimostrazione che era veramente risorto e non solo ha mangiato ma ha anche detto in nota lo trovate dice ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire perché vi dico non la mangerò più fino a quando non avrà pieno compimento nel suo regno nel regno di Dio non verrà più del frutto della vita fino a quando non lo berrò nuovo nel regno del Padre Mio lo dice Gesù quindi il frutto della vita era una cosa buona Gesù certamente ne faceva un uso ultra parco non lo beveva quasi mai ma per penitenza per noi e anche noi possiamo farlo ma fino a quando non lo berrò nuovo nel regno del Padre Mio lo dice lui stesso lo dice i facili a scandalizzarsi per questo devono stare cauti lo dice lui stesso che lo beve nuovo il vino nel regno del Padre suo e allora non ti piace tenere amata va bene lascia per tenere l'amata ma lo dice Gesù lo dice non ti piace manco il Vangelo Riccardo dice che meraviglia come vorrei essere già nella gloria la risposta che congedo anche per noi collabora dunque col tuo redentore raggiungi con le tue opere buone di cristiano la beatitudine che lui tiene preparata per te non ci si va in paradiso senza le buone opere non ci vanno tutti in paradiso questa roba il nostro Signore non la dà a tutti e fa non fa niente quella cosa che hai fatto e vieni e godi ma quando mai non date retta a chi va propalando queste cretinate anche se c'ha l'abito non gli date retta Dio certamente ci ha creati per il paradiso ci vuole portare ma per andare in paradiso ci vogliono le buone opere ci vogliono i sacramenti ci vuole la preghiera ci vuole la penitenza come ci ha segnato San Francesco festeggiato di ieri se non è paradiso non ci andiamo bella tutta questa roba qui il nostro Signore non vi dovrà di darcela ma non di regalarcela a Babbo Morto è comunque un regalo perché lui l'ha inventata e tra l'altro lui ci ha redento se non ci avesse redenti ce la sogniamo la notte questa roba qui l'ho già detto ma ha messo delle condizioni questi sono beni inestimabili Dio non li dà i suoi beni inestimabili a chi non si mette in condizione di riceverli neanche in questo mondo figuriamoci nell'altro quando l'avrai raggiunta vedrai di quali banchetti godremo e lui dice e quando sarà questo quando? esclamazione comprensibile dinanzi a tanto ben di Dio però la risposta è allo io quando Dio vuole e la prossima volta inizieremo il paragrafo settimo capitolo settimo dove troveremo tante altre belle cose alla prossima amici carissimi e che Dio di benedica e la beata vergine sempre e tutti vi protegga di benedica e la prossima di benedica e la prossima